Nome e cognome Susi De Martini Alice Salvatore Età 60 32 anni Professione Medico e attualmente europarlamentare Insegnante Partito Indipendente nel centrodestra, che adesso è Forza Italia Movimento 5 Stelle, che non è un partito Per quale motivo vi siete candidati alle elezioni europee? Per portare avanti il lavoro iniziato nelle commissioni bilancio e affari esteri Per svolgere il mio compito di attivista, è nostro dovere entrare nelle istituzioni come cittadini per sostituire questa classe politica che non ci ha mai rappresentato A quali tematiche darà la priorità? Economiche Agricoltura, informazione, made in Italy Come migliorerebbe la disciplina fiscale degli stati membri? Deve essere uniforme in tutti gli stati membri Se no è ridicolo, perché è ovvio che le imprese andranno a lavorare dove le aliquote fiscali sono più basse Il problema della disciplina fiscale è che è troppo rigida È giusto avere una disciplina, ma in questo caso sta strozzando le nostre economie Quindi noi dobbiamo andare lì e rinegoziare questi trattati che stanno uccidendo le nostre economie E ci stanno portando verso il destino della Grecia Quindi rinegoziare, ritrattare nell'interesse della cittadinanza italiana Quale indirizzo darebbe alla politica economica? Un indirizzo tutto incentrato sul lavoro E non su questo finto buonismo dell'Unione Europea Che ha sperperato ad esempio 20 miliardi di euro nel Nord Africa Di cui la metà è in corruzione Beh, quello della crescita Noi abbiamo bisogno di crescita Dobbiamo far girare l'economia italiana Per poter far girare l'economia di tutti i paesi Ormai si parla soltanto di tagli, austerità Tutto questo sono misure regressive Noi invece abbiamo bisogno di poter investire Come faciliterebbe l'accesso al credito delle imprese? È assurdo che la Banca Centrale Europea Dia i soldi alle banche all'1% E poi le banche lo diano alle imprese A dei tassi da strozzini Beh, come saprete I nostri parlamentari versano metà del loro stipendio Restituiscono i soldi allo Stato E li versano nel Fondo per le piccole e medie imprese Che è un fondo di garanzia A cui tutti i piccoli e medie imprenditori Possono accedere attraverso le banche Il problema è che le banche spesso negano L'esistenza di questo fondo Perché i prestiti sono troppo vantaggiosi Per gli imprenditori E poco vantaggiosi per le banche E poi abbiamo già fatto una proposta Che è diventata legge Per il congelamento delle cartelle di Equitalia Per tutti gli imprenditori Che hanno un credito con lo Stato Per il 2014 Quali azioni per le nuove imprese? Appunto, come dicevo prima Favorire il finanziamento alle imprese Con dei tassi reali e non da strozzini Beh, uno dei sette punti del Movimento 5 Stelle Per l'Europa È proprio quello di escludere Dalla strettoia del 3% Gli investimenti in innovazione E quindi facilitare l'accesso ai fondi europei Che ci sono Ma la burocrazia è troppo complessa Semplificarla Cosa proporrebbe per combattere la disoccupazione? Per combattere la disoccupazione Bisogna creare nuovi posti di lavoro Non come fare enzi Modificare le regole per l'incresso del lavoro Se il lavoro non c'è È inutile fare le regole Bisogna portare lavoro Quindi fare investire le aziende in Italia E soprattutto crearne le condizioni Infrastrutture Una giustizia che funzioni E una tassazione uguale a quella degli altri Stati Beh, la crescita è sinz'altro la risposta Per combattere la disoccupazione E poi il reddito di cittadinanza Che noi vogliamo istituire Che è già presente in tutti gli Stati membri Tranne due La Grecia e l'Italia Quali misure per aiutare i giovani a trovare lavoro? Per far trovare lavoro ai giovani Bisogna portare le imprese Di nuovo, la risposta è la stessa della domanda precedente Nel nostro programma nazionale Già è presente L'intenzione di fare degli sgravi sull'IRAP Per tutti coloro che assumono dei giovani Quindi questo in primis La condivisione del debito può avvenire attraverso l'istituzione di Eurobond Obbligazioni europee In questo modo gli interessi non andrebbero più nelle tasche delle banche Ma diventerebbero economia reale Girerebbero all'interno dei paesi e dei cittadini Come valorizzerebbe il Made in Italy attraverso l'Unione Europea? Abbiamo votato recentemente sul Made in Italy È stata una battaglia durissima Perché dovete saperlo Ci sono dei paesi che ci imbrogliano Quali il Belgio che ad esempio nel manifatturiero esporta il 200% di quello che produce Vi sembra possibile? No, ci prendono in giro O la Croazia che ha stoccato pannelli cinesi In Croazia sei mesi prima di diventare nell'Unione Europea Basta imbrogli Non è più accettabile che paesi stranieri possano freggiarsi di questo pregiatissimo Made in Italy Che è il nostro marchio di riconoscimento Un'eccellenza nel mondo Fino adesso è sempre stata E attraverso queste direttive Che vanno soltanto nell'interesse di questi altri paesi Perché noi non abbiamo mai fatto nulla Ce lo stanno svendendo Se lo sono presi Lo vediamo per i prodotti agroalimentari Lo vediamo per i prodotti di artigianato Noi in Italia siamo un'eccellenza del Made in Italy Allora che sia davvero fatto in Italia il Made in Italy e non fuori Come le risorse europee potrebbero aiutare le microimprese Liguri? Possono aiutarle tantissimo L'Europa non è un bancomat Noi diamo all'Unione Europea 15 miliardi ogni anno E ne riceviamo indietro solo 9 miliardi e mezzo Io sono nella Commissione Bilancio e mi sono accorta di questi sprechi I nostri parlamentari ma anche i nostri amministratori regionali Non sono riusciti a prendere questi fondi Io in quest'anno sono già riuscita a sbloccarne qualcuno E merito mio se l'Italia potrà pagare i debiti dello Stato E piccoli e medi imprenditori Grazie a una mia interrogazione Le risorse europee per le microimprese già ci sono Ci sono questi fondi europei Il problema però è che è difficile capire come accedere a questi fondi Noi quindi dobbiamo semplificare questi procedimenti burocratici E poi possibilmente il nostro impegno da eurodeputati Deve essere quello di aumentare questi fondi per la microimpresa Che per noi in Italia è il polmone della nostra economia E dobbiamo rilanciarla Un impegno preciso e concreto per le imprese Liguri Questa che ho detto è continuare a far pagare i debiti delle amministrazioni Ai piccoli e medi imprenditori e portare sviluppo Informare i piccoli e medi imprenditori di quello che stiamo facendo in Parlamento Ad esempio informando come si può accedere a questo fondo di garanzia Per le piccole e medie imprese Il fatto che adesso c'è il congelamento del cartello di Equitalia Noi continueremo a fare questa informazione sul territorio Ligure Lanci un tweet Basta sprechi, quote di merito Vinciamo noi A presto